Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi sono qui per parlarvi di un argomento che a me ha fatto un po' ribollire diciamo Voglio parlarvi della gestione di Bray Warriors Defender Io prima del match di Wrestlemania contro Randy Orton ero pro questa fight Mi era piaciuta anche se aveva tanti buchi però è normale per fare una fight del genere È normale che non riescano a coprire tutti i buchi Però vabbè comunque avevo hype per il match Cioè in realtà per il match in sé no però perché sapevo che sarebbe stato normale Defender e Randy Orton non sanno mettere su un capolavoro Diciamo come match se non hanno una stipulazione dietro Quindi per il pubblico non c'è stato nulla di cinematografico e ci sta Però una volta iniziato il match Sinceramente ho detto vabbè lo squoscia perché non fanno manco un C'era proprio un match normale capito? Quello intendevo E nulla io tago tanto hype per il match Più che altro perché pure Alexa Bliss aveva detto A Wrestlemania Randy Orton morirà Quindi ho detto vabbè Defender lo squoscerà in 5 minuti Un po' di più vabbè comunque In poco tempo e poi faranno qualcosa per farlo sparire come John Cena l'anno scorso E invece una volta iniziato il match A parte che non capisco perché Defender abbia combattuto con il suo vestito normale non bruciato E che già quello mi ha fatto un po' girare E seconda cosa la maschera è cambiata Vabbè perché quello lì non è che mi cambiava molto E una volta iniziato il match nulla Defender domina Poi Randy Orton fa qualche DT Il match penso che stava per finire Si sterebbe gay Lei invece no Compare Alexa Bliss Con tutto il sangue nero Si può chiamare così dalla Riesce dalla testa Tutte queste cose qua Archeio Defender si distrae Archeio e vincere Randy Orton A parte che già Bray Wyatt doveva vincere questo match Prima cosa Doveva vincerlo Seconda cosa Non capisco come faccia a perdere Dopo una sola Archeio Quando È sopravvissuto a una roba come 13 Corpstomp È un incendio A Yes Lock con la Con la cintura E A chi più ne ha più ne metta È sopravvissuto a un incendio Oppure contro Randy Orton Infatti è in alto Quindi vabbè Non capisco E E nulla Sono rimasto parecchio deluso Perché a parte che non capisco Lo split Tra Alexa Bliss e The Finder E Non lo capisco per davvero Perché in questo momento Non aveva senso Almeno per questo match Dovevano rimanere assieme Anche perché Il tradimento di Alexa Bliss Non ha alcun senso Vabbè Io ho detto Vabbè Questo Non lo accetto Ma comunque Vediamo cosa faranno a Raw Ci daranno una spiegazione Daranno una spiegazione A tutto questo Arriva Raw Post Wrestlemania A parte che è stato Raw Post Wrestlemania A peggiori sempre Io mi sono rotto le palle Vedere veramente Io non guardo più Raw ragazzi Guarda tanto Smackdown E adesso Molto probabilmente Dato che non guardo Raw Inizio a guardare i NXT Perché Non riuscivo a guardare Tutti i tre gli show Per questioni di tempo E ora che non guardo Raw Molto probabilmente Inizio a guardare i NXT Perché Raw veramente Mi ha rotto le palle Allora Lo show titolato O mandano ancora Tre McIntyre Contro Bobby Lashy E non dico che è una scelta sbagliata Ci sta Che deve avere una rivincita Ma Doveva finire Che perderà ancora E me lo distrugge ancora di più Che poi non ha fatto Una brutta figura Resson Mania Drio Anzi tutt'altro Però Magari Mi ha mandato qualcun altro Magari Braun Strowman Randy Orton no Perché Anche la vittoria di Randy Orton Non è che lo porta A fare grandi cose Ha perso un match E' stato pure schienato Adesso con chi va In falda Con nessuno Perché non c'è nessuno A mandare in falda Contro Randy Orton Io avrei Fatto vincere The Fiend Randy Orton Scompariva per un po' Facevano quella roba Che scompariva come John Cena Poi tornava E si ingaggiava A nuova falda Come ha fatto I gesti L'anno scorso Alla fine Che è tornato Per il ground Let match A morning in the bank Ma La vittoria di Randy Orton Non lo porta Da nessuna parte Secondo me Poi magari Poi magari sbaglio E adesso Andrà per qualche falda Ancora più importante Ma La vedo dura Sinceramente Mentre Aro Abbiamo avuto Alexa Playground E Alexa Bliss In pratica In breve Non ha detto proprio Queste parole Ma in breve Ci ha spiegato che Ha tradito Bray Wyatt Perché non ha più Bisogno di lui E non ha senso Vi spiego anche il perché Se non ha più bisogno di lui Perché l'ha fatto tornare A Fastlane Spero che ce lo spiegheranno Perché Io ho già un'idea Magari ce l'avrei Però secondo me È comunque molto forzata La faccenda Spiegherà che L'ha fatto tornare A A Fastlane Perché avrà bisogno Dei suoi poteri Per Dopo diventare più potente Perché alla fine Alexa Bliss Ha detto questo È diventata più potente Perciò ha tradito Dei Fiend In pratica È questo Il succo Del Del discorso Mentre Dei Fiend Ha tenuto La fan house E E Ci ha detto che Lui Che le streghe Sono selvagge Penso inteso Alexa Bliss E ci ha detto che Dei Fiend Tornerà presto Adesso non so Se ingaggeranno a Fai da con Alexa Bliss Ma non so Come la porteranno avanti Al fine Il succo Della faccenda È stato che Adesso pusceranno Alexa Bliss A merda E Dei Fiend Ha fatto la La figura Del Coglionito Dello scemo Che alla fine Era lui quello Che la comandava Ma alla fine Di tutto È lui che è stato Fottuto Perché era il contrario Evidentemente Che Alexa Bliss Comandava Dei Fiend Quindi alla fine Noi che ci aspettavamo Grandi cose Da questo accoppiamento Che poi ci sono state Grandi cose Fino a Resto Il main almeno Ci aspettavamo Grandi cose Tutto Alla fine siamo rimasti Delusi Perché alla fine Alla fine Questo metterli insieme Era per pushare Alexa Bliss Non Dei Fiend Secondo me è sbagliato Dovevi pushare Tutte e due Perché hanno fatto Un lavoro fantastico Tutte e due assieme Dovevi pusharle assieme Quindi ragazzi Fatemi sapere Con un commento Qua sotto Cosa ne pensate Della gestione Di Bray Wyatt E nulla Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti